Con uno dei più giovani in casa bianco rosso blu, Samuele Rosini, classe 2003, oggi ti aspettavi di giocare titolare, poi l'assenza di Berardi ha fatto cambiare le carte in tavola al mister, però una volta che sei entrato in campo hai sferato la rete. Sì, è vero, stavo anche per segnare, sono entrato che stiamo vincendo e sono entrato con voglia, ho dato il massimo, ho fatto di tutto per aiutare la squadra e spero di aver fatto bene e ora in testa domenica prossima col Monte Spaccato. A livello personale credo che quest'anno il tuo obiettivo sia quello di aumentare il minutaggio? Sì, certo, provo ogni settimana dal 100% per farmi trovare pronto la domenica e poi in partita sta al mister a scegliere la formazione, però mi faccio sempre trovare pronto. Complimenti in bocca al lupo. Grazie.